Buonasera a tutti carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regione della Pace, dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Questa sera mediteremo sulla preghiera del Padre nostro e la preghiera fondamentale del cristiano insegnata direttamente da Gesù e in questa preghiera vi è contenuto tutto quello che un cristiano deve chiedere nella preghiera e dunque le prime tre richieste che sono rivolte verso il cielo, verso il Padre e poi le altre richieste che sono rivolte verso la terra per tutti i nostri bisogni. Ecco dunque chiediamo anche l'intercessione potente di San Giovanni Paolo II finché possiamo comprendere profondamente questa preghiera importantissima e fondamentale del Padre nostro. Lo faremo attraverso l'aiuto grandissimo del Catechismo della Chiesa Cattolica. Chiaramente il Padre nostro è un abisso di sapienza, di scienza, di amore, di fiducia che il Padre attraverso il Figlio ci rivelano e quindi noi dobbiamo dedicare un po' di tempo a questo. Inizieremo a leggere il Catechismo e a commentarlo, ci vorrà qualche sera. Quindi iniziamo questa sera, poi vediamo quando riusciremo ancora a riprendere queste dirette perché ancora domani riuscirò a fare un'altra trasmissione, ma poi domenica e lunedì penso di no. Quindi cercheremo di iniziare adesso e poi di portare avanti questo discorso approfondendo di volta in volta. Ma voi già sicuramente avrete capito tante cose dalla sigla iniziale, cioè dai brani che il Santo Padre Giovanni Paolo II cita come introduzione alla preghiera del Padre nostro, quando dice che si dimentica forse una madre del suo figlio, sia un addetto, il Signore si è dimenticato, il Signore mi ha abbandonato. Ecco, Dio non può abbandonare nessuno, il Signore non abbandona e non si dimentica di nessuno, come una madre, una vera madre, non abbandona e non si dimentica del proprio bambino. C'è stata quella bella immagine di una mamma che stringeva fra le braccia il suo bimbo. Ecco, così Dio mai si dimentica, ne può dimenticarsi di noi, perché noi siamo nel suo pensiero, noi siamo nel suo cuore. Egli vive dentro di noi per mezzo del suo Santo Spirito. Il Padre ci ha amati fin dall'eternità. E nel figlio suo ci ha pensati e poi ci ha creati. Può dimenticarsi di noi? Può abbandonarci Dio? No, non ci abbandona mai. Al limite noi possiamo abbandonare Dio. Purtroppo questo è possibile e questo abbandono da parte dell'uomo nei riguardi di Dio può raggiungere una profondità tale che si trasforma in un vero e proprio inferno sulla terra e poi in un inferno eterno nell'abisso della perdizione che viene dopo questa vita terrena. È l'uomo che si dimentica di Dio, è l'uomo che abbandona Dio, ma mai Dio si può dimenticare dell'uomo né abbandonarlo. Se al contrario, come il figlio al prodigo vuole lasciare la casa paterna, Dio lascia che l'uomo faccia il suo percorso, fino a quando non si rende conto che ha un padre che lo attende a braccia aperte nella sua casa. Ecco allora, carissimi, saluto a tutti voi che siete in diretta, quindi Monica Michico Montano, Lina Tripodi, Carmela Bonelli, Rita Brillante, Rosanna Napolitano, Ida Lin, Marianna Ollender, Cecilia Brillante, Giulia Malandra, Anna Chiapparino, Monica Laura Dumitresco. Mi raccomando di non moltiplicare i commenti, altrimenti mi confondete perché cammina veloce, diciamo, scorre la barra dove sono i vostri nomi. Maria Cerchia, Concettina Fiorita, Agnieszka Arzemmieniek, Fiorenzo Langealonga, Margherita Bertolino, Belvedere Fastidio, Alessandra Giuliani, Maria Cerchia, Giuseppe Ciollaro, Franca Moretti, Antonella Labella Maiolo, Carla Comi, Anna Griego, Teresa Taverniti, Maria Grazia Rustico, Rosa Di Palma, Nicoletta Dossena, Clara Chirini, Merima, Rosa Taverniti, Maria Lombardo, Lila Lentini, Giovanna Chiapparino, Franca Moretti, Pina Nicoletta, Maria De Iaco, Claudia Sacco, Valentina Paolillo, Francesco Carbone, Grazia Boieri, Manuela Sartini, Anna Sarnataro, Sonia De Sogus, Idallin, Giovanna Chiapparino, Laura Murtas, Anna Marullo, Margherita Melfi, Pina Nicoletta, Anna Paola Centore, Pina Chianetta, Linda Pitino, Margherita Bertolino, Anastasia Guarino, Claudia Sacco, Laura Tonolli, Rita Mundola, Maria Aronica, Elisabetta Campanelli, Maria Lamacchia, Annunzia Placentino, Maria Berta, Raffaella Franco Davide, Paolina Pop, Saverio Tassone, Angela Milano, Silvia Chiarini, Alda Stradiotto, Franca De Angelis, Maria Teresa Fiaccola, Carlotta Viala Campolongo, Merido Nofrio, Maria Tucecova, Rita Giacquinto, Giuseppe Eugenio, Bruna Sette, Raffaella Esposito, Gianni Annarita Bruno, Filomena Rogati, Daniela Corallo, Gloria Fuentes Meia, Teresa Mirabello, Giovanna Rizzi, Stefania Peleppa, Pina Lablunda, Antonella Salaris, Angelo Grimaldi, Norma Beatriz Eceveria, Stella Maris, Raffaella Franco Davide, Angela Iacobus, Sonia Bartone, Lucio Rosaria Cipolletta, Liliana Tierno, Maria Rosa Scafiti, Beatrice Corda, Sergio Rita Giacovelli e tutti voi che siete in diretta. Bene, siamo più di 110 in diretta. Vi ricordo di condividere sempre queste dirette su tutte le vostre pagine Facebook perché pensano siano interessanti per approfondire la nostra fede. Bene, adesso andiamo direttamente a leggere il testo del Catechismo della Chiesa Cattolica. È un testo sicuro, è un testo molto arricchito rispetto al Catechismo di San Pio X, che era, diciamo, un pochettino più spartano, ma molto chiaro veramente. Ecco, quello veramente aiutava tanto anche i fedeli. Questo è un po' più articolato, è un testo molto grande e corposo come numero di pagine, quindi non è facile per i fedeli avere un approccio con questo tipo di Catechismo, mentre quello di San Pio X era molto più adatto. E qui vi consiglio di riprendere in mano sia quello di San Pio X sia questo Catechismo e un po' alla volta leggerlo, meditarlo, approfondirlo, non soltanto quando lo facciamo qui in diretta, ma anche a casa, perché veramente è una miniera di fede, di teologia, di spiritualità e di morale cristiana cattolica. Bene, parte quarta, la preghiera cristiana. Sezione seconda, la preghiera del Padre Nostro. Siamo all'articolo 2, Padre Nostro che sei nei cieli. Leggiamo dal Catechismo al numero 777. Nella liturgia romana l'assemblea eucaristica è invitata a pregare il Padre Nostro, con filiale e audacia. Le liturgie orientali utilizzano e sviluppano espressioni analue, osare con tutta sicurezza, rendici degni di. Davanti al rovetto ardente fu detto a Mosè, non avvicinarti, togliti i sandali ai piedi. Esodo 3,5 Solo Gesù poteva superare la soglia della santità divina e Lui che, avendo compiuto la purificazione dei peccati, ci introduce davanti al volto del Padre. Eccoci, io e i figli che Dio mi ha dato. Lettera agli ebrei, capitolo 2, versetto 13. Ecco, allora capite che l'uomo ha sempre avuto un sacro timore di Dio, tante volte anche una vera e propria paura. Ecco, invece Gesù ci fa superare questo timore, questa paura di accostarci a Dio, perché Egli ci rivela che Dio è Padre. Non è semplicemente l'Eterno, il Creatore, l'Onnipotente, l'Onnisciente, ma Dio è Padre. Dio è Padre e principalmente il Padre Suo. E poi ci ha rivelato che è anche il Padre nostro. Eccoci, dice il Figlio nella Lettera agli ebrei, io, il Figlio, e i figli che Dio mi ha dato. Perché noi possiamo presentarci dinanzi a Dio e chiamarlo Padre? Perché nel nostro cuore abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, che è anche lo Spirito del Figlio. E il Figlio si è incarnato. Allora, quando il Padre guarda l'umanità, la vede nel Figlio Suo che si è fatto uomo. Et verbum caro factum esti, et abitavit in nobis. E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Dunque, il Verbo di Dio, il Figlio di Dio, il pensiero di Dio, l'immagine purissima di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, proprio Lui, si fa uomo nel grembo purissimo della Vergine Immacolata. Ed ecco che, divenendo Lui uomo, ci genera tutti come uomini e in quanto uomini figli di Dio, adottivi nello Spirito Santo del Padre Celeste. Dunque, Lui si fa uomo affinché noi, in qualche modo, possiamo diventare divini, ricevendo lo Spirito Santo, che è lo stesso Spirito del Padre e del Figlio. Dice un Santo La consapevolezza che abbiamo della nostra condizione di schiavi ci farebbe sprofondare sottoterra. Il nostro essere di terra si scioglierebbe in polvere se l'autorità dello stesso nostro Padre E lo Spirito del Figlio suo non ci spingessero a proferire questo grido Abba, Padre Lettera ai Romani, 8, versetto 15 Quando la debolezza di un mortale oserebbe chiamare Dio suo Padre se non soltanto allorché l'intimo dell'uomo è animato dalla potenza dall'alto? Cioè, chi si immaginava mai? Quale uomo mai ha chiamato Dio suo Padre? Mai Sì, forse c'era un certo senso della paternità creaturale di Dio nei riguardi dell'intero creato forse anche in qualche popolo antico questo pensiero un pochettino così diciamo di una paternità universale di un creatore onnipotente ci poteva essere ma mai il sentimento di una paternità divina e personale di Dio nei riguardi dell'uomo e non soltanto di Dio nei riguardi di tutta l'umanità ma nei riguardi di ogni uomo singolo perché ogni uomo avrebbe potuto ricevere nel figlio suo Gesù Cristo attraverso il mistero che in Cristo si è compiuto cioè dell'incarnazione, della vita, della passione, della morte, della resurrezione e poi in modo particolarissimo dell'invio dello Spirito Santo ogni uomo avrebbe potuto diventare figlio di Dio ed ecco che è proprio lo Spirito di Dio che nel nostro cuore grida Abba, Padre noi lo sentiamo dentro che possiamo chiamare Dio nostro Padre e possiamo rivolgerci a Lui con tutta sicurezza perché il Padre ci ama dice San Giovanni Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna Abba, Padre ecco, questo grido è nell'intimo del nostro cuore perché è lo stesso Spirito che ci esorta ad elevare questo grido questa invocazione verso il Padre Celeste che ci guarda con mitezza, con bontà, con mansuetudine con paternità con amorevolezza, con misericordia in quanto noi siamo diventati realmente Suoi figli perché Egli ha voluto farci diventare Suoi figli perché l'uomo mai avrebbe potuto pensare una cosa simile continua dunque il Catechismo al numero 2779 prima di fare questo nostro slancio iniziale della preghiera del Signore non è superfluo purificare umilmente il nostro cuore da certe false immagini di questo mondo l'umiltà ci fa riconoscere nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare a chi è che il Padre vuole rivelare se stesso attraverso il Figlio ai piccoli la purificazione del cuore concerne le immagini paterne e materne quali si sono configurate nella nostra storia personale e culturale e che influiscono sulla nostra relazione con Dio Dio nostro Padre trascende le categorie del mondo creato trasferire su di Lui o contro di Lui le nostre idee in questo campo equivalrebbe a fabbricare idoli da adorare o da abbattere e voi pensate come nei popoli pagani l'idolatria era ampiamente praticata anzi tutti i popoli pagani erano idolatri perché il cuore dell'uomo sentiva che doveva trovare Dio per realizzarsi pienamente per trovare appagamento così come dice Sant'Agostino ma non lo trovava e allora questo desiderio come lo manifestava? costruendo degli idoli oppure divinizzando ciò che divino non era come ad esempio il sole, le stelle, la luna, la terra oppure gli animali voi pensate ad esempio gli egiziani che divinizzavano il gatto o altri animali o il sole quindi in tutte le esperienze delle antiche civiltà c'era questa idolatria delle cose create e quando diciamo l'uomo non riusciva a trovare il divino nel creato lo rivolgeva verso di sé e dunque divinizzava se stesso faceva di se stesso un Dio tant'è che il faraone considerava se stesso una divinità e questo è stato il suo errore gravissimo specialmente di quel faraone che fece sprofondare tutto il suo esercito nel Mar Rosso e che anche lui sprofondò nel Mar Rosso seguendo tutto l'esercito ecco allora l'uomo non è Dio le creature non sono Dio il creato non è Dio Dio è uno solo e chi è questo Dio? Dio è il padre del nostro Signore Gesù Cristo il quale ha mandato il figlio suo nel mondo affinché ciascuno di noi potesse diventare figlio di Dio questo è il grande mistero pregare il padre e entrare nel suo mistero quale egli è e quale il figlio ce lo ha rivelato l'espressione Dio padre non era mai stata rivelata a nessuno quando lo stesso Mosè chiese a Dio chi fosse si sentì rispondere un altro nome io sono colui che sono o colui che è a noi questo nome è stato rivelato nel figlio questo nome infatti implica il nuovo nome di Dio il nuovo nome di padre ecco ad esempio i testimoni di Geova dicono che il nome di Dio è Geova ma in realtà questo è completamente errato perché il nome Geova nella Bibbia è stato un grande errore commesso da qualcuno che ha trascritto i testi sacri perché gli ebrei spero di essere sintetico in questa spiegazione non potevano nominare il nome di Dio perché il nome di Dio era santo era sacro cioè Yahweh e non potendo nominare il nome di Dio quando trovavano il cosiddetto tetragramma sacro cioè le quattro lettere sacre che indicavano Yahweh ed erano soltanto quattro consonanti poiché la scrittura ebraica voi sicuramente sapete che si compone solo di consonanti e non di vocali invece di dire Yahweh mettevano sul testo diciamo sulla parola Yahweh le consonanti di un altro nome che poteva essere pronunciato cioè Elohim in modo da non dire Yahweh che era il nome sacro Elohim vuol dire l'altissimo allora pian piano che cosa è successo che queste vocali che appartenevano al nome Elohim sono state poi inserite nel nome Yahweh e Yahweh per via di alcune regole che abbiamo studiato in ebraico noi sacerdoti si trasforma in Jehovah e allora Jehovah non vuol dire nulla perché mentre Yahweh vuol dire colui che è Elohim vuol dire l'altissimo Jehovah non vuol dire nulla perché è un ibrido di due nomi cioè le vocali di Yahweh e chiedo scusa le consonanti di Yahweh e le vocali di Elohim ecco come è venuto fuori Jehovah e poi Jehovah per i testimoni di Jehovah dunque il nome di Dio non è Jehovah assolutamente Jehovah è un grave errore che è stato fatto in realtà il nome di Dio quello che Gesù ci ha rivelato è Padre ma gli ebrei dicono Padre è un nome generico non è un nome personale come posso dire Antonio, Giovanni e così via questo è il loro grande errore perché non conoscono la teologia biblica ogni nome nella Bibbia ha un significato profondo Jeshua, Gesù vuol dire Dio salva Giovanni vuol dire Dio e misericordia e così tanti tutti i nomi biblici Cefa vuol dire la roccia, la pietra dunque ogni nome ha un significato Yahweh vuol dire colui che è Elohim l'altissimo Jehovah non vuol dire nulla perché è l'ibrido di due nomi Yahweh le consonanti Elohim le vocali ecco questo è stato un grave errore che è stato fatto quindi non esiste quando vi dicono che il nome di Dio è Jehovah assolutamente dite loro voi siete in grave errore perché Jehovah è un nome ibrido fatto da due nomini e gli spiegate questa cosa la riascoltate perché non è difficile da capire ecco allora continua il Catechismo al numero 2780 possiamo invocare Dio come padre perché ci è rivelato dal figlio suo fatto uomo e perché il suo spirito ce lo fa conoscere ciò che l'uomo non può concepire né le potenze angeliche intravedere cioè la relazione personale del figlio nei confronti del padre ecco che lo spirito del figlio lo comunica a noi a noi che crediamo che Gesù è il Cristo e che siamo nati da Dio dunque non soltanto gli uomini non potevano neanche immaginare che Dio fosse padre e neanche che Dio fosse relazione di amore all'interno di se stesso ma neanche gli angeli potevano immaginarlo e allora solo il figlio poteva rivelarlo perché si trovava nell'intimo di Dio era nel seno del padre tant'è che questa è l'affermazione chiara del prologo del Vangelo di San Giovanni Dio nessuno lo ha rivelato proprio il figlio onigenito che è nel seno del padre e lui che lo ha rivelato dunque Dio nessuno lo ha mai conosciuto solo il figlio lo ha rivelato e noi possiamo conoscere Dio proprio attraverso il figlio suo Gesù Cristo e Gesù ha detto chi vede me vede il padre chi vede me vede il padre dunque nel volto del figlio noi riconosciamo il volto del padre è chiaro che il padre in sé rimane un mistero totalmente inconoscibile noi possiamo conoscere il padre soltanto attraverso il volto cioè l'umanità del figlio questo vuol dire chi vede me vede il padre non semplicemente il volto e le fatesse esteriori ma l'essenza del padre e in che cosa si è manifestata l'essenza del padre attraverso il figlio suo e nella potenza dello spirito santo in quello che ha affermato poi san giovanni con chiarezza nella sua prima lettera capitolo 4 versetto 4 dio è amore dunque il padre è amore perché il figlio ha manifestato l'amore del padre e perché ci ha comunicato l'amore del padre e del figlio cioè lo spirito santo e noi possiamo amare il padre con lo stesso amore con cui lo ama il figlio perché abbiamo ricevuto lo spirito del figlio che ci ha resi figli di Dio e nel nostro cuore questo spirito del figlio di Dio grida Abba padre e noi sentiamo che il padre ci ama perché il nostro cuore desidera amarlo e lo ama nella misura in cui ciascuno di noi purifica il suo cuore dalla carnalità si eleva spiritualmente e sente questo amore divino che il padre è versato dentro di noi al numero 781 dice il catechismo della chiesa cattolica quando preghiamo il padre siamo in comunione con lui e con il figlio suo Gesù Cristo è allora che lo conosciamo e lo riconosciamo in uno stupore sempre nuovo la prima parola della preghiera del Signore è una benedizione di adorazione prima di essere un'implorazione questa è infatti la gloria di Dio che noi lo riconosciamo come padre Dio vero gli rendiamo grazie per averci rivelato il suo nome per averci fatto il dono di credere in esso e di essere inabitati dalla sua presenza attraverso il battesimo noi siamo diventati tempio dello Spirito Santo e attraverso lo Spirito Santo tempio di tutta la Santissima Trinità capite quale grande mistero ci inabita però quanti sono i cristiani cattolici che si rendono conto di questa inabitazione divina dentro di sé e voi pensate quando facciamo la comunione se abbiamo un cuore pronto quale esperienza straordinaria facciamo la pace di Dio si riversa nel nostro cuore e noi sentiamo veramente che Dio ci ama che Dio è padre che Dio ci dà la sua pace attraverso il Figlio suo Gesù Cristo vi lascio la pace vi do la mia pace non come la dà il mondo io la do a voi perché è la pace del Padre e Gesù stesso sarà definito il Principe della pace proprio in quanto Figlio di Dio che è un Dio di pace dunque possiamo adorare il Padre perché Egli ci ha fatti rinascere alla sua vita adottandoci tra virgolette dobbiamo capire questo termine adottandoci come Suoi figli nel Suo Figlio onigenito per mezzo del Battesimo ci incorpora al corpo del Suo Cristo e per mezzo dell'unzione del Suo Spirito che scende dal capo nelle membra fa di noi dei Cristi unti tant'è che dicevano i padri della Chiesa Cristianus alter Christus esti il Cristiano è un altro Cristo come molto di più per il Sacerdote dicevano sacerdos alter Christus esti il Sacerdote è un altro Cristo dunque sia il Cristiano sia il Sacerdote sono altri Cristi cioè unti di Spirito Santo però ciascuno secondo la vocazione che ha ricevuto all'interno del corpo mistico di Cristo il Sacerdote come capo e guida della Chiesa e i fedeli come membra del corpo mistico di Cristo ecco vi dicevo prima bisogna capire bene questo termine adottandoci perché se noi lo consideriamo da un punto di vista probabilmente formale e legale quando due persone adottano un bambino chiaramente un papà e una mamma non il genitore 1 e il genitore 2 ma un papà e una mamma adottano un bambino quel bambino diventa loro figlio dal punto di vista legale ma non può mai e poi mai diventare il loro figlio dal punto di vista naturale cioè non ha la carne e il sangue dei genitori perché non l'hanno concepito loro chiaramente dei genitori adottivi porta invece in sé la carne e il sangue il dna dei genitori naturali di coloro che lo hanno concepito ecco noi invece non abbiamo questo tipo di adozione nei riguardi di Dio cioè non siamo dei semplici figli dal punto di vista legale perché essendo stati battezzati il nostro nome viene segnato nel registro di battesimo allora apparteniamo ad una istituzione formale che è poi governata dal diritto canonico da tante leggi che ci sono dentro la chiesa e così via non è questa l'adozione di cui si parla nella scrittura l'adozione che Dio ha nei nostri riguardi è veramente filiale e divina e spirituale e di una inabitazione dello Spirito Santo che ci innesta come i tralci alla vite e quindi tra il tralcio e la vita e la vite passa la stessa vita la stessa linfa vitale ecco tra noi e Dio adesso c'è la stessa vita la vita del figlio di Dio che vive dentro di noi e quindi noi dobbiamo rendersi conto di questa inabitazione divina nel nostro cuore nella nostra carne oserei dire nel nostro spirito Cristo vive in noi tant'è che Gesù si identifica in modo particolare con coloro che soffrono ho avuto fame mi avete dato da mangiare ho avuto sete mi avete dato da bere e così via una piena identificazione con coloro che soffrono cioè Gesù vive nei sofferenti tanto più vive nel cuore del cristiano che ha ricevuto il suo spirito dunque in realtà Dio ci ha predestinati all'adozione di figli ci ha resi conformi al corpo glorioso di Cristo ormai divenuti partecipi di Cristo siete naturalmente chiamati Cristi il Cristo è l'unto del Signore i Cristi sono l'unti del Signore unti di Spirito Santo veniamo unti di Spirito Santo nel battesimo e poi questa unzione raggiunge la sua pienezza nella Santa Cressima tant'è che se ricordate il bellissimo inno di San Paolo della lettera adesso non ricordo bene se è Efesini o Colossesi credo Efesini dove dice benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità ecco dunque voglio trovare questo inno così lo voglio citare proprio sì non era soltanto un secondo ancora perché vorrei trovare proprio l'inno cristologico sì è proprio la lettera agli Efesini dunque 1 3 6 benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo e Lui ci ha scelte prima della creazione del mondo perché fossimo santi e immacolati dinanzi a Lui nella carità ecco poi continua in un modo diverso qui ho una traduzione che non mi piace tanto perché si vede che non è proprio quella della CEI quindi preferisco ecco non leggerla tutta allora ecco allora in tal modo al numero 783 dice il Cadechismo attraverso la preghiera del Signore noi siamo rivelati a noi stessi mentre ci viene rivelato il Padre ecco capite cioè quando diciamo Padre nostro non soltanto abbiamo la rivelazione del Padre cioè che Dio ci è Padre ma noi siamo rivelati in noi stessi nel senso che noi comprendiamo di essere Suoi figli perché se chiamiamo il Padre con questo nome vuol dire che noi siamo figli e non è una semplice appunto frase formale che rivolgiamo a Dio come Padre come potevano dire appunto i popoli pagani no no in noi vive lo Spirito di Dio che grida nei nostri cuori Abba Padre il Catechismo cita un altro bel testo o uomo tu non osavi levare il tuo volto verso il cielo rivolgevi i tuoi occhi verso terra e ad un tratto hai ricevuto la grazia di Cristo ti sono stati rimessi tutti i tuoi peccati da servo malvagio sei diventato un figlio buono leva dunque gli occhi tuoi al Padre che ti ha redento per mezzo del figlio ed in Padre nostro ma non rivendicare per te un rapporto particolare del solo Cristo è Padre in modo speciale per noi tutti è Padre comune perché ed ha generato Lui solo del solo Cristo dunque dicevamo perché ha generato Lui solo noi invece ci ha creati di anche tu per grazia Padre nostro per meritare di essere suo figlio e comunque l'unico che è stato generato non creato è stato il figlio unigenito è il verbo che si è fatto uomo noi siamo delle creature siamo stati creati e siamo stati adottati attraverso il figlio con il dono dello Spirito Santo per diventare anche noi figli di Dio al numero 2784 questo dono gratuito dell'adozione esige da parte nostra una conversione continua e una vita nuova pregare il Padre nostro deve sviluppare in noi due disposizioni fondamentali il desiderio e la volontà di somigliargli creati a sua immagine per grazia ci ha restituita la somiglianza e noi dobbiamo corrispondervi dunque ecco Lui ci adotta ma noi dobbiamo sforzarci continuamente di convertire i nostri cuori per vivere da Suoi figli cioè da figli di Dio bisogna che quando ci chiamiamo che chiamiamo Dio Padre nostro ci ricordiamo del dovere di comportarci da figli di Dio bene carissimi ecco concludiamo questa sera questa diretta su questa prima parte del Padre nostro ecco abbiamo approfondito questo termine di Padre Dio è veramente Padre in modo particolare è Padre del Figlio unigenito ma diventa anche Padre nostro in quanto noi veniamo adottati nel dono dello Spirito Santo e diventiamo figli nel Figlio e ciascuno di noi e tutti insieme possiamo chiamare Dio nostro Padre dunque Padre nostro ecco carissimi voglio leggere qualcuno dei vostri commenti e poi concludere con la bellissima preghiera del Padre nostro cantata da San Giovanni Paolo II ma veramente in un modo straordinario si vede che la canta il cuore di un santo e ti fa fremere nell'intimo come tanti di voi già all'inizio hanno detto ecco quando uno sente la voce di un santo la voce del santo Padre veramente la riconosce no? e come dice Gesù le mie pecore conoscono la mia voce ecco solo al sentire la voce di San Giovanni Paolo II noi abbiamo riconosciuto la voce di un Padre buono perché come ha detto la Madonna Meggiugorie e San Giovanni Paolo II si sente padre di tutta l'umanità e lo ha dimostrato che si sente padre di tutta l'umanità un Padre buono che è andato a visitare i suoi figli su tutta la faccia della terra per manifestare nel suo volto e nel volto di Cristo il volto del Padre Celeste ecco i Santi sono come una scintilla del faro luminoso del sole glorioso che è lo stesso Gesù Cristo e San Giovanni Paolo II questo veramente lo ha espresso in un modo straordinario Giuseppe Ciollaro dice possiamo recitare insieme il Padre nostro sicuramente carissimo Giuseppe lo reciteremo alla fine insieme con tutte le altre preghiere dopo che leggo qualcuno dei vostri commenti ecco purtroppo ho visto tanti bei commenti che avete messo prima però non riesco più purtroppo a leggerli perché sono andati già troppo avanti Daniela dolci dice in te sono fissi i miei occhi in te confido mio dio padre delle misericordie benedici e santifica le nostre anime con la benedizione celeste perché diventi tua santa abitazione e trono della tua eterna gloria amén bella preghiera carissima Daniela Sara Baldo dice perché c'è stata fatta una modifica al padre nostro ne parleremo carissima Sara quando arriveremo al punto comunque già ascoltate bene questo canto che ho messo come sigla e questi salmi e i passi della scrittura di saia che il santo padre Giovanni Paolo II cita perché lì c'è già la spiegazione di tutto bene carissimi allora facciamo un momento di preghiera e poi concludiamo nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amén insieme padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurra in tentazione ma liberaci dal male ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto legge governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste amén l'eterno riposo donadoro signore esplenda ad essi la luce perpetua riposino in pace amén o glorioso noi il signore il signore sia con voi vi benedica a dio onipotente vi libera ogni male maleficio maledizione sortilegio incantesimo fattura legatura stregoneria invidia gelosia odio rancore malocchio ogni forma di male occulta dalle conseguenze delle messe nere vi dia pace serenità salute prosperità comunione fedeltà coniugale fecondità di vita vi faccia crescere nella fede nella speranza nella carità e in ogni virtù vi faccia aggiungere la gioia eterna al paradiso insieme con tutti i vostri cari nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amén benediciamo il signore rendiamo grazie a dio